La Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato oltre 16.000 capi di abbigliamento ed accessori contraffatti in un deposito di stoccaggio nella zona della Maddalena, nel capologo Campano ed in un outlet dell'Interland casertano. I finanzieri hanno scoperto un ingente quantitativo di capi di abbigliamento e accessori con i marchi contraffatti delle principali griffe della moda. Quattro persone residenti a Napoli sono state denunciate. Secondo la Finanza, i capi di abbigliamento erano realizzati con una pregievole fattura, doppie cuciture ed impiego di materiali costosi lasciano intendere che i capi dovevano soddisfare una clientela sempre più esigente. Destinata al mercato napoletano, la merce avrebbe fruttato agli organizzatori del traffico circa mezzo milione di euro, tra i prodotti contraffatti, anche abbigliamento per bambini.